L'operazione è stata estremamente complessa e delicata. È riuscita ma solo fra 48 ore si saprà se il sedicenne schiacciato dal bus ad Amalfi ce la farà. Sono cauti ma speranzosi i medici dell'ospedale di Salerno. La situazione come detta è gravissima ma dalla sua ragazzo alla giovane età ed un cuore fortissimo. Intanto è stato denunciato a piede libero per lesioni gravissime e colpose l'autista del bus turistico che ad Amalfi ha stretto il giovane pedone contro la ringhiera all'altezza dell'hotel Luna. Si tratta di un 45enne di Gragnano dipendente di una nota compagnia turistica locale che di ritorno dal centro di Amalfi dopo aver consentito la discesa ai suoi passeggeri ha effettuato una manovra azzardata stringendo in curva il sedicenne di Ravello che transitava a piedi lungo il margine della strada. L'episodio è stato ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Amalfi. Si è verificato intorno alle 9.40. Alla denuncia dell'autista risultato negativo all'alcol test è seguito il sequestro del mezzo della lunghezza di 8 metri ad opera degli agenti della polizia locale diretti dal comandante Agnese Martingano che tiene a confermare l'assenza di auto o mezzi in divieti di sosta sulla carreggiata. Sono stati attimi di panico tra chi ha assistito alla scena pedoni e motociclisti i primi ad intervenire. Una scena terribile hanno raccontato con il giovane che non ha perso i sensi e gridava disperatamente. Poi l'arrivo di un'autoambulanza del 118 che ha soccorso il ragazzo portandolo prontamente in codice rosso primo al pronto soccorso del costa d'Amalfi dove gli hanno riscontrato ferite lacero contuse agli arti inferiori e fratture multiple al bacino che hanno fatto optare per un trasferimento immediato in eleambulanza dal porto turistico di Maiori al reparto di rianimazione dell'ospedale Ruggi di Salerno dove nel primo pomeriggio il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il ragazzo è uscito dalla sala operatoria poco prima delle 16. Le sue condizioni, come detto, restano gravissime. Tantissimi messaggi di incoraggiamento a mezzo social per lui e la famiglia in questo momento così delicato con tutta Ravello in costiera amalfitana che prega per il sedicenne.